Un nuovo veicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso, incomodato, gratuito. Parte oggi a Nuoro il PMG, progetto di mobilità garantita, grazie all'interessamento del Comune di Nuoro e dell'Ada Nuoro, Associazione per i diritti degli anziani, in collaborazione con PMG Italia, con l'obiettivo di incentivare l'autonomia sociale e l'integrazione dei cittadini con disabilità. La consegna del veicolo all'Ada Nuoro si è tenuto questa mattina in Piazza Satta, alla presenza del Presidente Ada Nuoro, Giovannino Ortu, del Comandante della Polizia Locale, Gioni Biagioni, delle Assessori Comunali, Eleonore Angheleddu e Fausta Moroni e del Referente Regionale PMG, Angelo Dettori. Noi facevamo già il trasporto solidare con le nostre macchine, poi con la venuta del Covid abbiamo bloccato il trasporto e grazie a questa società, la PMG, che ci ha dato l'opportunità tramite gli sponsor di Nuoro di avere incomodato questa macchina da poter fare questi servizi a tutti i nostri cittadini, soprattutto agli anziani, quelli più bisognosi, diciamo. Può capitare anche che per una cosa o per l'altra i familiari non possono accompagnarli a visite programmate o altro. Noi ci siamo, ci siamo per questo. Un momento solidale reso possibile grazie al sostegno di tanti imprenditori locali sponsor che hanno finanziato l'iniziativa abbinandovi il loro marchio nel nome di una comunità più accogliente per i suoi cittadini più svantaggiati. Il veicolo attrezzato permetterà infatti a chi ne farà richiesta di usufruire di servizi di trasporto sociale di vario tipo, dal tragitto casa-lavoro alle attività del tempo libero fino alle cure mediche. Uno spazio piccolo come quello di un monovolume per spalancare ai cittadini con disabilità un mondo di opportunità fino a quel momento, spesso soltanto desiderate.